Ecco con il sindaco di Acquasanta Terme, una splendida località termale che questa sera si vesta a festa per la Grotta d'Argento, vero sindaco? Sì, diciamo una cinque giorni molto bella, ben organizzata da questo comitato della festa San Giovanni che ci permette di andare avanti e pensare in positivo. Ci sarà poi dopo un'altra edizione importante di Miss Italia, 27-28, ci sarà la Sagra del Fungo Porcino ad agosto e tanti altri eventi. Quindi venite a visitarci e soprattutto dateci quell'energia che è necessaria per ripartire dopo tutto quello che è accaduto. Grazie a voi che ci seguite. Chiamo tutti quelli che vogliono iscrivervi, possono farlo al numero di cellulare? Allora, può farlo qui alla Prologo di Acquasanta Terme oppure può telefonare a me, 38 75 15 902. La mail c'è? La mail? La mail è proacquasanta.chiocciolalibero.it Il prossimo è importante? Eh, facciamo il cantagiro con tutti i ragazzi, l'11 luglio facciamo una manifestazione e poi faremo un'altra manifestazione, il Fungo Porcino il 26, 27, 28 luglio. Bene. Poi 14 e 15 montagne di birra e poi la solita festa d'autunno, come sempre, terza domenica di ottobre. Queste sono quelle più importanti. Perché ti è piaciuto a mia Martini? Che io ho avuto il piacere di conoscere. Allora, io ho visto il suo film e mi ha colpito tantissimo e allora ho deciso di cantare una delle sue canzoni.